Ci sono 35 italiani sulla nave da crociera in quarantena a largo di Yokohama in Giappone perché a bordo ci sono una ventina di persone contagiate dal coronavirus. I connazionali sarebbero 10 persone in crociera e 25 membri dell'equipaggio. Nessuno di loro è contagiato dal virus. Sulla nave sono presenti cittadini di 56 nazionalità diverse per un totale di 3.700 persone. Dovrebbero rimanere confinate in nave fino al 14 febbraio. L'unità di crisi della Farnesina e l'ambasciata d'Italia a Tokyo in collaborazione con le autorità locali stanno seguendo la situazione e sono in contatto con i nostri connazionali per prestare ogni possibile assistenza.